buon natale e buona pirografia a tutti vi presentiamo il pirografo per decorazioni natalizie per la vostra casa il vostro albero di natale o da regalare oggetti fatti a mano per un natale speciale qui vedete delle tavolette di compensato queste invece sono le classiche posate da cucina in legno ho ipotizzato delle piccole decorazioni le ho riportate sul legno ed ecco qua il risultato un simpatico regalo una simpatica idea per avvivare le nostre cucine il giorno di natale scrivere col fuoco perché il pirografo è proprio la scrittura o il disegno la decorazione con altissime temperature una punta quasi incandescente che va a incidere il legno questo è il pirografo che ho usato è un pirografo base con punte intercambiabili quindi si può decidere come se fosse un pennarello se usare la punta grossa o la punta più fine spero che vi sia piaciuto potete trovare pirografi e accessori per la pirografia sul nostro sito elettronicadidattica.com continuate a seguirci e con l'occasione auguro a tutti un felice natale a presto da elettronica didattica